Un nuovo sopralluogo in via Andrea della Robbia, dove il 26 agosto scorso fu uccisa Maria Venanzio de Sosa, sessantenne, brasiliana. Per il suo omicidio è in carcere il reo confesso Federico Ferrini. Proprio il suo difensore, Jonathan Giannini, e due consulenti da lui incaricati, saranno venerdì prossimo di nuovo all'interno di questa palazzina, assieme agli agenti di polizia. Il sopralluogo secondo il difensore di Ferrini dovrebbe servire a chiarire alcune dichiarazioni contraddittorie emerse durante l'interrogatorio del 37enne di fronte al GIP. Rispetto al movente del delitto, Ferrini ha sempre parlato di un ricatto da parte della sessantenne brasiliana. Maria avrebbe chiesto denaro a Ferrini, altrimenti avrebbe rivelato le sue frequentazioni con il mondo della prostituzione. Inoltre, l'appartamento dove Maria è stata uccisa sarebbe stato messo a suo quadro proprio dallo stesso Ferrini e dai successivi controlli nell'auto e nei vestiti del 37enne non è stato trovato il sangue della sessantenne. Tutti elementi secondo la difesa discordanti fra loro. Per questo, Giannini, prima di impostare la sua strategia difensiva, vuole effettuare un altro sopralluogo. Vogliamo capire che cosa è accaduto, spiega, e se ci sono elementi che possano chiarire alcuni aspetti della vicenda. Per un giorno, quindi, indosseremo i panni degli investigatori con tutte le precauzioni necessarie per non inquinare la scena del delitto e vedremo se sarà possibile dedurre qualcosa di diverso. Intanto, i contocorrenti non solo della vittima, ma anche di Ferrini, sono al vaglio della squadra mobile diretta da Francesco Morselli, il tutto per cercare di confermare sempre rispetto al movente un'ipotesi, ovvero che la 59enne avesse prestato denaro al giovane amico.